Siamo qui? Sì! Ciao! Ah, chi inizia? No, non so, era vero pochino! Siamo qui con il team Made in Vino per presentarvi la nostra... Per presentarvi! In questo mese un bel Morellino di Scansano 2010, poggio unibiale. Temperature di servizio di questo vino, la diciamo dopo... Oh, dai! Il fondatore, Cristian, il nostro sommelier. Io vi presento, sono Filippo Burioli, dell'eloteca Burioli. Eloteca! Facciamolo nero! Ciao! Ciao amici di Made in Vino, siamo qui per presentarvi il nostro team, formato da due fantastici sommelier. Il primo è Cristian. Buonasera! Fabrizio! A presto! 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 A presto!